SILVAX, VACCINIAMOCI! Se tranquillo vuoi stare, i nonni non baciare! Sì, 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 SILVAX, VACCINIAMOCI! Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu! Se vuoi andare al bar, felice a festeggiar, le dosi devi far per fare un buon Natale! Allora, devo dire, anche piuttosto intonati, su! Beh, vabbè, vabbè! Però dobbiamo essere generosi e la parola! A me io vengo sempre mazzolato quando canto e loro sono intonati! Fatemi sentire Sandra, c'è Massimo che scuote il capo, io se lo sapevo non li mandavo, io lo trovo molto carino! Prego Sandra! Anche io, intanto come canta Fiorella Mannoia, l'ironia ti salverà la vita! E molti hanno bisogno dell'ironia e anche dell'autoironia! D'accordo con te anche su questo! L'ho trovata una cosa davvero deliziosa! E poi vi posso raccontare questo! Stamane in giro, ai giardini, molti bambini la intonavano! Vedi? Mi sono quasi commossa! Quindi ha funzionato, ha funzionato! Sì, ha funzionato! Massimo, arrivo da te che ti vedo scettico! Però perdonatemi! Provence...